Questo è un Inesco del Cappellotto, ho montato un Isashi F31, un amo molto affidabile, in questo caso una misura 4 e il bracciolo proprio per le dimensioni dell'esca è uno 0,28 e il protocarbolo è un FC403 Saltwater, molto adatti a queste situazioni perché ha quella giusta rigidità che in grande presenza di turbolenza impedisce gli aggrovigliamenti, dopodiché la soluzione tecnica è estremamente elementare, direttamente sullo Shock Leader ho collegato questo praticissimo accessorio, i grovigli sono veramente lontani, potrei addirittura allungare il bracciolo di un altro 30-40 cm, sono convinto assolutamente di essere tranquillamente in pesca, così però non è la certezza.